La bioeconomia è definita dalla Commissione europea come un'economia che usa le risorse biologiche rinnovabili provenienti dalla terra e dal mare, così come i rifiuti e gli scarti, come input, come materie prime per la produzione di energia, per nuove produzioni industriali, per produrre alimenti e mangimi. La bioeconomia è la componente rinnovabile dell'economia circolare, un'economia in cui tutto è risorsa e in cui non ci sono scarti. Oggi la bioeconomia è universalmente riconosciuta come un'opportunità per ovviare a significative problematiche ambientali, come la scarsità delle risorse, il cambiamento climatico, la desertificazione e la degradazione dei suoli, consentendo allo stesso tempo sviluppo economico e creazione di posti di lavoro, anche in aree marginali e in aree rurali o a rischio di abbandono. Anche la Commissione europea ha riconosciuto l'importanza di una transizione verso una bioeconomia sostenibile e nel 2012 ha pubblicato Innovating for Sustainable Growth by Economy for Europe, che è la strategia europea da poco aggiornata nel 2018.